ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video il momento è difficile complicato è inutile prendersi in giro voglio essere il più onesto possibile con voi oggi è stata ufficializzata però la nuova maglia parliamo di queste cose è stata ufficializzata la nuova maglia che farà il suo esordio già nella partita di lunedì ultima partita di Giorgio Chiellini all'Allianz Stadium dove saluterà il suo pubblico ultima partita di Paolo Di Bala all'Allianz Stadium o almeno da giocatore della Juventus dove saluterà il suo pubblico partiranno tanti altri tra l'altro oggi a proposito di ultime partite all'Allianz Stadium sono dieci anni dal saluto l'addio di Alessandro Del Piero come calciatore capitano della Juventus simbolo vero e proprio della Juve e proprio lunedì partiranno il dieci e il simbolo il capitano quindi Di Bala e Giorgio Chiellini ragazzi sembrano corsi ricorsi storici però sono coincidenze che vanno abbastanza sorridere so che ci sono state alcune notizie che vanno verso una litigata una litigatona tra la dirigenza della Juventus Allegri addirittura si è parlato di Bonucci so che è successo qualcosa so che è venuto fuori che è successo qualcosa devo capire un attimo meglio che cosa è accaduto magari ne parliamo nel pomeriggio penso che sia più necessario invece andare ad analizzare la partita vera e propria quel Juventus Inter per l'ultima volta poi lasciamo stare perché comunque io il video delle pagelle non ve l'avevo ancora portato mi sembrava invece doveroso farlo Massimiliano Allegri voto 5 ovviamente insufficienza perché abbiamo perso abbiamo perso anche male io qua sarò un popular e vi dico ho letto tanti che mi vanno a criticare quel cambio di tifori Bernardischi dentro Bonucci allora dopo ne parleremo anche sulla pagella di Bernardischi che è positiva io non sono tanto contro il cambio di per sé a me non importa che esca un centrocampista e dentro un difensore per passare alla difesa a 3 o a 5 in fase di non possesso questo non è un problema perché l'importante è che non cambi l'atteggiamento della squadra tra l'altro lo stesso Bonucci è andato a tanto così da fare il 3 a 1 è stata credo l'unica occasione vera e propria dove abbiamo cercato, tentato di fare il 3 a 1 dopo quel cambio e comunque dopo essere andati in vantaggio per 2 a 1 a me importa che non cambi l'atteggiamento l'Inter ha giocato con la difesa a 3, 3 a 5 e 2 tutta la partita ragazzi tutta la partita ha vinto 4 a 2 perché? perché l'atteggiamento era differente se poi Chiellini, Derite e Bonucci rimangano ancorati e abbassiamo anche sempre Quadrado e Alexandro quando devono difendere allora noi abbiamo questo blocco granitico una squadra spaccata a metà con due centrocampisti tre attaccanti e 28 difensori non è tanto il numero di difensori che metti ma quanto più non li fai salire l'Inter a un certo punto quando ha messo dentro Di Marco Di Marco ci ha fatto impazzire ragazzi Di Marco era sempre lì che si buttava dentro e chi lo seguo? lo seguo io, lo segui te non è mica il mio uomo rompe gli schemi, rompe le linee non eravamo pronti ad affrontare un Di Marco che saliva così tanto che ci prendeva in controtempo e ci ha fatto impazzire perché non possiamo fare lo stesso con Derite? nella difesa a 3 perché non possiamo affidare a Derite compiti offensivi quando c'è da attaccare perché il fatto che tu sia 2-1 non impone che tu abbia vinto la partita tu devi cercare di chiudere la maggior ragione contro una squadra come questa con una squadra come questa, la nostra Juve oh, quante volte ve l'ho detto quante volte ve l'ho detto che questa non è una squadra che può gestire il risultato ogni tanto a me, non lo so arrivato a questo punto mi viene da dire io e Allegri quest'anno abbiamo visto troppe partite diverse perché se lui invece mi viene a dire no, per me questa è una squadra in grado di gestire il risultato allora io alzo le mani perché io me le ricordo le sue Juve di Allegri le sue Juventus dove dicevamo non prendiamo gol non prendevamo gol non è questa non è assolutamente questa quindi mi viene a dire a questo punto l'unica soluzione è che quest'anno abbiamo visto delle partite diverse abbiamo avuto delle percezioni diverse anche sul grado di preparazione di questa squadra sul grado raggiunto da questa squadra a me sembra di vedere sempre gli stessi errori non tanto perché metto un difensore in più quanto perché poi la squadra non ci crede più non è il numero di difensori il problema l'Inter ha giocato con tre difensori dall'inizio alla fine ma accompagnavano l'azione noi invece lasciavamo sempre tre giocatori là davanti pensateci voi lancio lungo Di Bala pensaci te fai qualcosa Blaovic, Morata, sbattetevi e poi qualcuno gli ha criticato il cambio di Kemper Di Bala io ragazzo dello stadio l'ho visto Di Bala non si reggeva più in piedi Di Bala non ce la faceva più aveva speso troppo quello è un cambio che ci può stare una cosa che aggiungo è in una situazione di confusione tale come la Juve di quest'anno il motivo la domanda da farsi è perché passare alla difesa a tre nel senso quante volte l'abbiamo visto Allegri trasformista negli anni che giocava indistintamente con la difesa a tre con la difesa a quattro anche in corso d'opera cambiava più volte nella stessa partita tante partite nella partita mille volte l'abbiamo visto un milione ma erano squadre capaci di farlo io l'anno scorso mi sono arrabbiato anche compirlo per sta cosa a un certo punto andiamo a Firenze a giocare con la difesa a tre mai provata ma quando una squadra in difficoltà deve aggrapparsi a quelle poche cose che sa fare questa Juve la Juve dell'anno prima è una squadra in difficoltà anche la Juve di Sarri Sarri intelligentemente che cosa fa quando capisce che non può passare i suoi concetti a una squadra che non riusciva a seguire quello che aveva in testa si mette 4-4-2 si mette 4-4-2 con Matuidi da una parte Bernadeschi dall'altra Di Bala Ronaldo giocate voi fatemi vincere lo scudetto perché questo è l'unico modo che ho per portare la squadra alla fine dell'anno e conseguire un successo lo fa e vince bisogna o bisogna adeguarsi alle squadre non solo le squadre che devono adeguarsi alle idee degli allenatori almeno inizialmente almeno quando le squadre non stanno andando bene poi se i progetti sono a lungo termine gli allenatori dovranno parlare con le dirigenze per far sì che vengano acquistati giocatori idonei quelle che sono le idee dell'allenatore ma quando tu arrivi in una squadra e una squadra viene da anni difficili tu non puoi non puoi far passare la tua idea sopra quella che è la caratteristica dei giocatori i giocatori nascono con delle caratteristiche bisogna essere bravi a farle valere fare un passo indietro alle proprie idee fare un passo in avanti verso i giocatori e invece no e invece no invece continuiamo a dire vabbè siamo sopra di uno manca mezz'ora non saliamo più non avanziamo più e questa cosa mi mandano i matti per in sei poveraccio due tiri nel set da fuori due tiri nel set su calcio di rigore tra l'altro apro una parentesi Perisic ha calciato il rigore di destro ed è Mancino infatti poi di Mancino fa gol nell'altro palo sotto l'altro palo cioè veramente questa cosa mi ha sconvolto e per in sei poverino che cosa poteva fare Chiellini voto 7 io non so sinceramente come faremo lo dico davvero non so come faremo so che si sta parlando di Badia Schill in entrata in ingresso è uno dei nomi caldi io non lo conosco lo conosco veramente poco però penso a Giorgio Chiellini che lascia la Juve dopo quasi 18 anni una maggiore età praticamente di Giorgio Chiellini alla Juventus è l'ultimo è l'ultimo cardine mi emoziono anche un po' dirlo è l'ultimo cardine che lascia la Juventus da quando ho iniziato a seguire io la Juve perché quando ho iniziato a seguire io la Juve Chiellini c'era Buffon c'erano erano gli unici due che erano rimasti e ce ne eravamo portati dietro per tanti anni quindi per me è complicato per me è complicato e aggiungo che è l'ultimo ad aver completato tutto il ciclo degli scudetti perché è vero che si Bonucci c'era il primo anno di Conte poi sappiamo che ha fatto una parentesi al Milan e questo ha interrotto Bonucci che molto probabilmente sarà il prossimo capitano della Juve comunque e Giorgio l'altra sera secondo me ragazzi Giorgio l'altra sera è stato il migliore in campo per quanto mi riguarda Giorgio è stato il migliore in campo l'altra sera 8-7 8-7 e purtroppo non è bastato non è stato sufficiente per garantirsi la vittoria per portare a casa la vittoria e sarà davvero difficile sostituire Bonucci Chiellini sia a livello umano sia a livello di prestazioni credo addirittura che durante gli anni d'allora BBC a un certo punto Chiellini sia stato forse l'anello debole passatemi il termine della catena per quanto non fosse comunque l'anello debole ma perché Bonucci e Barzagli forse a un certo punto erano addirittura su un altro livello e poi Giorgio Giorgio è come il vino Giorgio più è andato avanti più è migliorato purtroppo l'ha detto anche lui l'altra sera la Juve ha bisogno di un giocatore che possa garantire 50 partite all'anno e non più 20 e questa è una riflessione matura forse è arrivata addirittura in ritardo ma va bene così va bene così non vedo l'ora di salutarlo saremo in live tutti insieme renderemo omaggio a quella che è stata la sua grande avventura la sua grande storia d'amore con la Juventus forse l'ultima vera bandiera anzi Togo forse l'ultima vera bandiera della Juventus con l'augurio che magari qualcuno tra Locatelli Chiesa Delit Blaovic possano risultare le nuove bandiere del domani perché abbiamo bisogno di personalità e di uomini come Giorgio Chiellini Bonucci 6 io mi rifiuto come ho letto da qualche parte di dare insufficienza a Bonucci perché entra e collabora insieme a Delit a procurare il rigore per l'Inter io non guardate lasciate stare sta cosa proprio lasciate stare sta cosa che non ne ho parlato dell'arbitro nella giornata di ieri subito immediatamente perché sapete bene che a me piace analizzare il calcio non me ne frega niente l'arbitraggio ma quel rigore è decisamente generoso lo dico oggi a due giorni di distanza così non è faccio vedere che non è una rosicata ma semplicemente un'opinione mi rifiuto di abbassare il voto di Bonucci perché insieme a Delit no non c'è calcio di rigore non ti legge di arci intorno data così frega data così è andata così va bene così data così va bene così perché tanto per forza di cose deve andare bene così però mi rifiuto di abbassare il voto a Bonucci per questa cosa qui Delit invece 5 perché poi il secondo calcio di rigore invece è sacrosanto io tra l'altro l'avevo visto in diretta dallo stadio ero abbastanza convinto fosse rigore infatti quando Brozovic ha buttato fuori la palla avevo già capito che dato che non c'era nessun uomo per terra nessuno si era fatto male avevo già capito che il punto era quello e vabbè dai Delit è il nostro rocchellini nel senso che è il punto da cui ripartire quindi aggrappiamoci con forza lui nonostante questo errore nonostante questa prestazione non eccellente aggrappiamoci a lui che è sicuramente il nostro futuro la nostra luce Quadrado 6 è molto meglio la terzino devo dire la verità rispetto a quando l'abbiamo utilizzato alto forse anche questo spiega i due anni super con Sarri e Pirlo e questo in cui non è stato proprio eccellente con Allegri forse in questo momento Quadrado ha bisogno di partire più lontano possibile dalla porta per andare in sovrapposizione quindi proviamo a tenerce la mente questa cosa poi ovvio che perdi qualcosa in solidità difensiva ma a me pare che quest'anno comunque la Juve non sia questa rocca forte che tutti descrivono e quindi accetto anche il fatto di magari subire un po' di più sulla destra per cercare di fare male anche magari ripartenza perché per quanto mi riguarda la ripartenza rimane l'arma migliore a disposizione di questa Juve l'abbiamo visto anche in occasione del gol del 2-1 di Vlaovic Danilo 5 e mezzo dove nei primi minuti in cui gioca non fa chissà quale partita anzi forse un po' di sofferenza anche lì sul lato destro poi un infortunio lo costringe al cambio 5 e mezzo vediamo quando rientrerà Alexandro 6 e mezzo e io dallo stadio ho avuto la percezione che fosse gol di Alexandro e poi Morata è venuto sotto la curva a esultare sotto la tribuna a esultare allora avete magari l'ha toccato ho visto male io e invece era gol di Alexandro tra l'altro questa cosa mi fa un sacco piacere perché ci ho giocato molto in questi giorni dicendo Alexandro ci deve qualcosa Alexandro dovrà restituirci quel gol della supercoppa e tutti mi dicevano ma no ma no è impossibile quindi sono veramente contento che abbia fatto il gol lui questo non cambia però il fatto che sono abbastanza convinto che saranno le ultimissime partite anche di Alexandro a Juve che sia giusto così 6 e mezzo però perché anche l'idea di tirare da quella posizione va bene la papera di Andano ci va bene tutto però bravo a crederci a sentire il momento in cui bisognava tirare in porta senza stoppare girare perché noi tante volte questo facciamo invece abbiamo bisogno di un po' più di coraggio e quindi stop e tiro vai Pellegrini poi da subentrato voto 6 va bene è entrato al posto di Alexandro ha fatto secondo me anche un buon ingresso ha avuto un po' di grinta un po' di velocità addirittura un dribbling mezzo 2 tra i giocatori dell'Inter purtroppo non era quello che poteva cambiarci la partita nel momento in cui poi siamo affondati ma va bene Rabiot 6 e mezzo secondo me è stato il migliore a centrocampo è l'ennesima volta che mi tocca dire questa cosa nelle ultimissime partite dell'anno ma come per Alexandro rimango di quell'opinione non è che se ogni tanto ci sono delle partite fatte bene o sul finale ci sono delle partite fatte bene vado a ricredermi Rabiot per me è uno di quei giocatori che deve necessariamente uscire l'anno prossimo perché costa terribilmente con quelle che sono le linee guida della Juventus che sta seguendo in questo momento però c'è da dire che Rabiot ha fatto una buonissima partita e c'è da dire che Rabiot viene da un buon periodo comunque complessimamente Zaccaria 6 non ti ruba l'occhio è un giocatore veramente importante per presenza in campo recuperatore di palloni intelligentissimo sulle seconde palle quindi tante volte fa il lavoro sporco fa quel lavoro invisibile che comunque una squadra serve e anche tanto e forse non è nemmeno un caso che quando a un certo punto poi esce anche Zaccaria la squadra vada un po' peggio e infatti entra Locatelli al posto di Zaccaria Locatelli è anche lo stesso Allegri però che mi viene poi a dire in conferenza stampa post partita Locatelli ha fatto mezzo allenamento ero fuori da 40 giorni un mese e mezzo allora mettimi Miretti cioè e allora perché mi metti Locatelli cioè me lo metti se sta bene perché non me lo metti Miretti vabbè ad ogni modo anche qui quando c'è stato questo doppio cambio dove è entrato Bonucci per Bernareschi dove è entrato Locatelli per Zaccaria il mio ragionamento è stato il cambio ci sta perché sei avanti metti dentro Bonucci e Locatelli che sono giocatori di gestione del pallone e ti difendi magari col possesso palla invece no ci siamo difesi con la passività che sono due cose differenti allora a maggior ragione non capisco i cambi di due giocatori qualitativamente Chelsea come Locatelli e Bonucci bravi a gestire il pallone bravi a trattare la palla far passare il tempo per poi cercare non lo so un lancio lungo un'apertura dall'altra parte creare superiorità numerica e andare ad insaccare quel 3 a 1 perché l'avremmo potuto fare ce lo dico tranquillamente lo avremmo potuto fare perché abbiamo fatto un buon primo tempo abbiamo avuto una reazione ottima nel secondo la partita di per sé è stata una bella partita della Juventus però poi ci manca sempre quella voglia di aggredirle di portarle a casa addio santo questa roba qui di difendere me lo fai con due gol di scarto me lo fai con un gol di scarto che è un episodio di cambio di tutto mannaggia Arthur 5 perché ecco questo invece è un cambio che ho maledetto in diretta l'avete visto anche nella live reaction capisco che tu voglia mettere un centrocampista in più togliere un difensore per poi allora passare ancora a difesa 4 capisco poi tra virgolette però Arthur oggi è impresentabile ragazzi oggi Arthur è impresentabile per la Juventus non ne ha più palesemente voglia se Rabiot ha fatto il procedimento inverso e cioè sta finendo il campionato increscendo dimostrando voglia per quanto io non si è innamorato di Rabiot Arthur sta facendo il procedimento inverso e personalmente avrei tenuto più Arthur di Rabiot però Rabiot Arthur ormai è diventato un oggetto misterioso oggi ormai è diventato un oggetto misterioso e non credo che ci possa essere futuro nemmeno per lui però se lo facciamo li vediamo tutti io rimango tuttumanti su questa cosa qua ora parleremo molto di mercato per forza di cose siamo arrivati alla fine inizieranno ad esserci le notizie inizia ad esserci anche l'apertura del calcio mercato dei parametri zero che devono firmare quindi sicuramente ne parleremo tanto però Arthur mi sembra proprio uno di quelli che bisogna accedere basta Bernardeschi sei e mezzo ho fatto una buona partita e sostanzialmente il grande merito di Bernardeschi è stato quello di essere l'unico giocatore che riusciva a portare la palla dall'altra parte del campo cosa che non c'è mai venuta comoda fino a questo cioè dall'infortunio di Chiesa in poi c'è sempre mancato quel giocatore in grado di portarci la palla di là c'è sempre mancato perché Quadrado fa altre cose Bernardeschi è proprio uno che prende palla e va un po' come magari farà più di tanto in tanto ma Bernardeschi è molto più abituato in esterno e ha fatto siccome una buona prestazione apri chiudo parentesi non sono favorevole a rimuardo di Bernardeschi lo sapete poi è ovvio che a ribasso si può parlare di tutto però capisco molto di più quello di De Sciglio essendo un terzino che non può giocare su tutti i due fronti essendo un terzino che mi deve rimanere lì a fare riserva Bernardeschi è un giocatore che secondo me essendo anche un paio di anni più giovani di De Sciglio può ancora dare tanto in una squadra diversa dalla Juventus è un giocatore di qualità Bernardeschi che negli ultimi anni però ha avuto un blocco e lui stesso l'ha detto la Juventus non mi fanno rischiare la giocare l'ha detto lui quindi penso proprio che sia un fattore anche psicologico che lo lega la Juventus allora forse anche per il suo bene è giusto andare da un'altra parte quindi io non sono per i nodi Bernardeschi però devo dire la verità l'altra sera allo stadio è stato l'unico l'unico insieme a Pinsoglio l'unico insieme a Pinsoglio loro due basta a stare sempre in piedi a correre per andare a prendere i palloni a crederci a mangiarsi le mani in tribuna in panchina si vedeva proprio che aveva voglia quindi non so se questo va nella direzione di era l'ultimo trofeo che poteva vincere Bernardeschi e quindi la sentiva di più o per il fatto che si senta uomo squadra non lo so però questo ve lo faccio presente che è una cosa extra campo una cosa fuori dal campo ma si avvertiva davvero un Bernardeschi che aveva una voglia diversa rispetto agli altri in panchina di portare a casa questo trofeo e forse anche il cambio è stato un po' preventivo non sono favorevole a rinnovo ma sembrava di vedere un giocatore veramente attaccato alla causa Vlaovic 6 e mezzo io me lo sentivo che avrebbe fatto gol Vlaovic ve l'avevo detto nel video pre partita l'avevo detto Radavon lo sapevo sono quelle cose cazzo sono quelle cose che davvero le senti dentro Vlaovic era stato super criticato io mi aspettavo addirittura un gol di Vlaovic vittoria che tra l'altro non ci sia nemmeno andato troppo lontani perché merca vacca non ci penso mi arrabbio però mai dare per morto l'orso ragazzi non date per morto l'orso Dujan Vlaovic che ieri fa un post bellissimo su Instagram sono disposto ad andare all'inferno per ritornare in paradiso con te e vedremo se sarà davvero così è uno che non si arrende è uno che non si ferma di fronte alle difficoltà è uno con le palle così ed è uno che dobbiamo anche questa ripetita Juvent d'accordo però ormai sono un disco rotto dobbiamo servirlo meglio perché è vero che lui fa tanti errori tecnici è vero che lui ha ancora molta sporcista deve migliorare la polizia negli appoggi nella gestione della palla nel migliorare le scelte che può farli davanti perché è un po' grezzo ma per forza ha 22 anni e queste caratteristiche che ha a 22 anni mi sembrano incredibili perché è un giocatore aerobico è un giocatore possente è un giocatore intelligente è un giocatore tecnico è un giocatore freddo anche se vogliamo perché è vero che deve fare gol in due volte però Danovic la para con la faccia la faccia la para non è la parata del portiere perché Vlaovic ha sbagliato Vlaovic l'ha angolata bene Danovic mentre scende la prende di faccia e poi lesto furbo veloce a ricapire che la palla arriva lì e a rinsaccarla in rete nel primo tempo un bel tiro dove lì Danovic si supera un giocatore forte Vlaovic ragazzi non dubitate di Vlaovic vi scongiuro vi prego non dubitate di Vlaovic sei a mezzo Di Bala primo tempo bruttissimo assente secondo tempo sale in cattedra e cambia la musica e cambia completamente la Juve anche il primo gol quello di Alexandro nasce da Di Bala che va a dialogare con Vlaovic questa è l'unica arma forte che abbiamo in questo momento in fase offensiva di Bala che dialoga con Vlaovic l'unica arma veramente forte e poi un rimpallo arriva da Alexandro ma l'azione la costruisce Di Bala il gol del 2-1 di Vlaovic nasce da Di Bala nasce in realtà da Morata da Bernardeschi che vanno a dialogare tra le linee Di Bala verticale sulla corsa di Vlaovic i quattro attaccanti 3-1 se vogliamo con Bernardeschi ma questa squadra è una squadra che deve andare che deve avere gamba deve avere spazio deve avere del campo libero davanti ma quante volte le abbiamo dette queste cose era la stessa cosa l'anno scorso con Chiesa Kuluzeschi Morata Cristiano Ronaldo quest'anno i quattro che vanno Morata Di Bala Vlaovic Bernardeschi siamo una squadra che non può palleggiare se ti presenti al centrocampo con Zaccaria e Rabiot cosa vuoi palleggiare a fare cosa vuoi palleggiare a fare ti affidi alla tecnica la qualità dei quei quattro davanti alla corsa allo strappo il 2-1 nasce da un contropiede siamo nella nostra area di rigore siamo bravi a uscire saltiamo la prima pressione dell'Inter siamo anche fortunati nel rimpallo però poi le giochiamo di prima in velocità perché la tecnica davanti ce l'abbiamo e soprattutto la corsa ma siamo questi ma prima lo accettiamo meglio è prima accettiamo il fatto che siamo una squadra che deve giocare così meglio è abbiamo poco coraggio poco coraggio e Di Bala quando entra all'interno di questi contesti è letale perché ti serve sulla corsa ti serve il pallone millimetrico tra le linee poi nel primo tempo purtroppo sbaglia un gol e c'è poco da fare lo perdiamo perché Di Bala non sarà più nostro l'anno prossimo vediamo chi lo sostituirà perché anche quando si parla di Fagioli ragazzi Fagioli quest'anno la Cremonese io non ho seguito la serie B però tutte le volte che guardavo le formazioni la Cremonese Fagioli giocava dietro le punte che sia un indizio che si faccia che ne so raspadori a Fagioli perdi tanto perché è ovvio Di Bala è un giocatore fatto finito loro due sono due rampa di lancio due emergenti però la posizione in campo è quella io ho in testa che se arriva Savic è per quel motivo lì per metterlo lì a meno che non arrivi Pogba e si decida di mettere lui lì non lo so però qualcosa di qualitativo qualcuno di qualitativo dietro le punte serve perché perdi Di Bala e perdi tutto praticamente da quel punto di vista lì Morata 6 e mezzo perché Morata ragazzi Morata è il game changer lo spacca partite veramente lui è entrato e ha rivoluzionato tutto ha cambiato la partita qua bravo Allegri questo è il cambio che mi è piaciuto questo mi è piaciuto tanto esce Danilo dentro Morata va bene sei sotto di uno però ci vogliono anche i coglioni tanto in tanto è perché ogni tanto ce li abbiamo ogni tanto non ce li abbiamo ogni tanto facciamo vedere che ci sono ogni tanto ci dimentichiamo di averli e Morata cambia davvero la partita con i suoi strappi con la sua velocità le lacrime di Morata a fine partita cosa significano beh banalmente è finita qua e sono abbastanza convinto che sia finita qua e e anche questo mi dispiace perché far andare via Chiellini e Morata nella stessa sessione di mercato mi taglia anche quel cordone con la prima finale di Champions del ciclo quella di Berlino e quindi vediamo vediamo se sarà davvero così sicuramente stiamo entrando in una nuova era della Juventus questo è poco ma sicuro non so non so con chi ha il comando della Juve nel senso piani alti non so con chi impanchina nella Juve proprio di gestione di questo magari parlerà nel pomeriggio con quel video che vi accennavo prima sulle litigate vediamo che cosa accadrà forza Juventus però ragazzi sempre sempre comunque il sentimento deve essere forte che Grazie a tutti